Dopo il grande successo delle tappe di Torino, Roma e Milano, approda nel Sud Italia, Napoli, il Festival dell'Oriente, il più importante evento internazionale interamente dedicato a culture, tradizioni e popoli orientali. Nei due weekend, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre, l'evento sarà ospitato presso il complesso fieristico della Mostra d'Oltremare, in un'area di oltre 30.000 metri quadrati, dedicata alle tradizioni dei paesi d'Oriente. Mostre, bazarre, stand di prodotti tipici, spettacoli folcloristici, medicine naturali, ci saranno anche 20 ristoranti etnici ed aree interattive per la pratica di yoga e arti marziali. Il Festival dell'Oriente metterà a disposizione dei visitatori che vorranno partecipare, l'Oriente in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, quindi troveranno tanta cultura, tanto divertimento, folclore, gastronomia, spettacolo, tutto quello che riguarda appunto questa affascinante cultura dei paesi orientali. E in particolare per l'edizione di Napoli avremmo moltissime novità, sia per quanto riguarda gli stand che troveranno, sia per quanto riguarda le attività, le aree culturali, quindi insomma è un evento che sicuramente soddisfierà tutti i gusti. Nei padiglioni del Festival, aperti dalle 11 a mezzanotte, verranno presentate le cerimonie tipiche e le tradizioni orientali, dalla vestizione del kimono alla cerimonia del tè e dal circo cinese ai massaggi tailandesi, un percorso coinvolgente di colori, musiche e profumi alla scoperta delle culture e del folclore di paesi lontani. Sempre di più la Mostra d'Oltremare continua ad avere un ruolo di sviluppo economico, proprio perché una festa itinerante porterà comunque in sé anche una serie di soggetti che verranno comunque dall'esterno della nostra città, portando comunque un indotto alla città stessa importante. Un viaggio nell'Oriente, dal Tibet passando per la Cina, Giappone. Io mi auguro che i cittadini napoletani siano attenti a questa apertura enorme, in questo momento dove l'interculturalità è la base di tutto. Ad accompagnare la Kermess ininterrottamente, più di 400 spettacoli su 5 palchi dedicati che vedranno alternarsi artisti di fama e prestigio internazionali. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!